... Diversi pullman GTT che si trovavano nel parcheggio della stazione di Cerie Sono andati completamente distrutti E' accaduto questa notte, giovedì 15 novembre, poco dopo mezzanotte e mezza Sul posto sono prontamente intervenute squadre botti dei vigili del fuoco di San Maurizio Canavese e Torino Che hanno domato e spento le fiamme Pare che l'incendio sia scaturito da un mezzo centrale e si sia poi propagato agli altri Ma al momento non c'è ancora niente di certo Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria Non si esclude il dolo Allora proviamo con la pompa su un mezzo Allora noi ci arriviamo con i nazi a svuotare quello e vediamo a sto di somma caricare